Un deficiente che ho bloccato ieri ha detto che io lancio dei messaggi terrificanti perché come e come mangio io non va bene e non faccio vedere che faccio sport. Punto primo, io non lancio nessun cazzo di messaggio, io mangio e poi faccio le altre cose. Il fatto che io non mostro quando vado a cagare non significa che non vado a cagare, no? E non significa che sto promuovendo la stitichezza, per esempio. In secondo luogo io sono sostanzialmente un food blogger, che parlo di merda, che parlo di videogiochi, che parlo di cinema, che parlo di quel cazzo che ti pare, ma è ovvio che se finita me parliamo di pappa, di che cazzo dobbiamo parlare? Non è che vai da uno che parla solo di calcio e poi dici, eh però non parli di scherma, e cazzo a cazzo. Faccio sport ogni giorno, cosa che non dovevo dire io, sport si fa tutti i giorni, magari anche solo a mezz'ora, ma si fa perché fa parte di una vita sana. Poi come mangio io? Io mangio circa 2000 calorie al giorno, ho sempre detto che pranzare con le merendine non è il massimo della vita, ma quindi? Fine, torno ad allenarmi perché dopo vado a fare il ciccione, qualsiasi cosa voglia dire.